Konnichiwa minasan ben ritrovati nel mio canale sono come sempre giappogamer e oggi siamo qui su dry club portare avanti la serie con delle prove a tempo ovviamente il la nazione il giappone le altre nemmeno le guardo allora l'ultima volta abbiamo fatto le prove a tempo abbiamo fatto nei due circuiti cobago bene quindi oggi dobbiamo fare il lake shoji bene allora partiamo da dal primo insomma dall'andata casuale gioca no bella macchina bonus no ce la facciamo ovviamente ci prendiamo la nostra nissan vediamo un po dove sta allora ferrari audice ore meccanica eccola qua la nostra bella giapponese guardate qua che roba che design vai zompa in macchina allora lake shoji che poi si vede ecco l'orario del giorno 11 del mattino con pressione tempo 1 è tempo numeroso ecco come potete vedere in fondo si intravede il monte fuji monte sacro ai giapponesi per lo più vai 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 occhio bene cosi vai cosi vai cosi e vabbè controllo prova velocità vabbè l'abbiamo persa ma non fa niente altro confronto velocità e dai su mi sono un attimo attaccato al muro guardate pure voi quanto siete pignoli va bene altro confronto velocità persa ma non fa niente vai cosi taglimi sta curva vai cosi entra va andare un po meglio magari vai 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 go 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 kira 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 battagliamo stupendi gli alberi sono fatti ovviamente bene eccoci sul rettilineo ed eccoci qua va bene possiamo anche abbandonare possiamo pure finire la sessione allora sono in classifica generale nella posizione 805 con in 1 23 e 337 fine sessione bene tempi parziali nel primo intertempo 26 secondi e 415 centesimi secondo intertempo 28 secondi e 55 centesimi terza sessione 28 secondi e 867 centesimi bene così pilota super arriviamo al secondo livello abbiamo accumulato la bellezza di 24.095 stelline presi dai 500 dai confronti 3.595 dalle manovre speciali e ben 20.000 tonde tonde dall'aumento di livello elogio ottimo così continua bene eccoci qua di ritorno nel lab di dry club va bene così da giopo gamer è tutto sayonara ne e al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti